Non vuole! So short, come on! Come facciamo a fare il pallone? Ciao a tutti, io sono Lisa. Hi, I'm Lina. Oggi dovremo affrontare una sfida natalizia in cui consiste in pacchettare questo pallone in modo carino. So, we're gonna wrap this up nice and clean. E voi dovete decidere chi farà meglio questo pacco. Lo sapevo, è già corto. Oh, non vuole! No, come on, what is this? So short, come on! What is this? No! No, no! Eh, mica facile qui, eh! Oh, questo! Lina! Ok, abbiamo capito che abbiamo un futuro! Il mio sembra, non lo so, è un po' più carino forse. Belli, eh? Commentato! Allora, questo è il mio pacchetto che sembra una caramella in realtà dentro c'è la sorpresa ancora più bella! Oh my God! E il tuo invece? Eh, I don't know, I don't know. Eh, però sta brava, eh! Mm, mm, brava! Carino! Sono contenta, sì! Sì, veloce, sono state brave, veloci. Nice, non so se è molto carino, ma... Ottimo lavoro! Vediamo chi vincerà! Ciao! Ciao!